Una svolta storica per l'Olimpiade Azzurra a Tokyo 2020. Il tiro con l'arco femminile conquista uno storico bronzo. L'autrice di questa impresa si chiama Lucilla Buari da Mantua, capace di raggiungere un traguardo importante, più forte della deduzione in semifinale. K.O. dalla russa O si prova. La finale del bronzo è intensa quanto basta. L'Azzurra la vince al quarto sette in una remonta che ha dell'incredibile. Era da Londra 2012 che l'arco azzurro non vinceva. All'epoca fu la squadra maschile a vincere loro. Buone notizie dall'atletica leggera con Tamberin finale nel salto in alto domenica. 3.000 metri uomini, stesso obiettivo raggiunto per Angewale e Zagawi. Semifinale per la Bellone gli 800 e Sibilo nei 400 ostacoli. Finale 5.000 donne per la Batocletti. Dal luogo azzurro in finale entrambe le stavette della 4%, inclusa Federica Pellegrini. L'Italvolle nei quarti di finale del torneo olimpico maschile con un turno di anticipo. K.O. all Iran per 3-1. Mimmo Siena, World News 24 Sport.